Una messa di ringraziamento, celebrata dal parroco della Basilica di Santa Croce, Don Gesuel Lombardo, nella chiesa di San Michele. I fedeli si sono riuniti questa mattina nel giorno della festa dedicata all'Arcangelo Michele, protettore della Polizia di Stato. La celebrazione è terminata con una benedizione rivolta a tutti i poliziotti d'Italia. Alle telecamere di TV City le parole del parroco Don Gesuel Lombardo. Abbiamo celebrato come tradizione con i rappresentanti del locale commissariato di Polizia di Stato che vedono in San Michele il loro patrono, il loro protettore. Nella messa ho appunto innanzitutto valorizzato, recuperato il ruolo degli uomini che svolgono il loro servizio nella Polizia di Stato. Anche loro sono i custodi, come gli Arcangeli, come San Michele. Sono i custodi del bene pubblico, della salute delle persone, dei valori civili, dei valori umani che per noi sono anche tanti valori cristiani. E poi in questa messa ho voluto ricordare anche tanti agenti che a livello nazionale durante quest'anno hanno dato la vita mentre facevano il loro lavoro, il loro dovere. Si prega anche per i poliziotti d'Italia e in particolare per gli agenti del commissariato di Torre del Greco che a gennaio scorso ha recuperato la statua di San Giuseppe e il Bambinello che furono trafugate dal presepe durante le festività natalizie. Sì, infatti quest'anno c'è stata anche questa nota di gratitudine che è stata messa in evidenza all'inizio della messa dal rettore di San Michele, Padre Angelo Annunziata, che è anche il cappellano del nostro ospedale maresca. Come tutti sappiamo dal presepe qui furono trafugate queste immagini di San Giuseppe e il Bambinello e grazie all'indagine e all'impegno della Polizia di Stato furono ritrovate e restituite con grande gioia dei fedeli proprio qui all'Arciconfraternita di San Michele, Santissimo Sacramento. In occasione dell'evento è stata esposta la statua dell'Arcangelo Michele, recentemente restaurata. Quest'antica statua di San Michele che si conserva qui, penso che sia del Settecento, di recente è stata restaurata e come avviene in questi casi si vede come il tempo aveva sovrapposto tanti altri strati di colore, di pittura, anche i fumi delle cantele del tempo passato, per cui l'ottimo restauratore che sta lavorando qui l'ha riportata agli antichi splendori, riportando appunto in luce i colori originari. Tutto questo si fa sempre sotto la guida della sovrintendenza, perché le cose antiche non possiamo toccarle se non con l'ausilio e tutti i permessi della sovrintendenza, che anche qui per l'Arciconfraternita non sono mancati. Buona festa a tutti custoditi dai nostri Arcangeli.